30 di bava dritta sinistra e tira 2 tutta la barra dritta no no ok 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 Perfetto così, guarda, va bene così? Faccio scendere le loro, che sono di angola. Vai piano piano, sotto bisogna essere in due, però eh. Faccio scendere le loro, faccio scendere il microfono? Alfa Delta da F1 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 Grazie a tutti.